Un vero e proprio tocca sana. La restituzione dei tre punti in classifica alla Virtus Lanciano, arrivata con la sentenza della Corte Federale d'Appello dopo il dibattimento di ieri, ha ridato l'infa alla rincorsa a salvezza della squadra di Primo Maragliulo, una rincorsa che era comunque in atto, ma quei tre punti di distacco dalle più dirette rivali, la mazzata subita all'Adriatico e la necessità di dipendere tanto dai risultati delle concorrenti, oltre che dai propri, rendevano il compito particolarmente complesso. In tanti speravano nella restituzione di un solo punto, quello legato alla rinuncia allo stipendio di Manuel Turchi, ed invece ne sono tornati tre, perché il pool di legali, chiacchio, cozzone e dicintio, ha saputo smontare il teorema della recidività. Ora la Virtus di punti ne ha 42, così come Salernitana, Latina e Modena, ma per la classifica a Vulsa in questo momento sarebbe addirittura salva, e lo sarebbe definitivamente se centrasse sei punti nelle ultime due partite. Insomma, i rossoneri tornano padroni del loro destino. Intanto sarà fondamentale battere la Ternana, che sarà priva dell'ex vitale, del suo migliore elemento, Falletti, e che soprattutto è già salva. Questo campionato però ha insegnato che non ci sono partite scontate, basti ricordare la lezione dell'ultima gara del Biondi contro l'Avellino. Una gara quindi da approcciare al meglio e da non fallire? Solo una volta superate le fere di Roberto Breda, per la Virtus ci sarà la possibilità di guardare il risultato delle dirette rivali e del Livorno, che se non dovesse fare il pieno d'Ascoli, sarà quasi certamente retrocesso con la Virtus, che potrebbe così chiudere il campionato in terra labronica contro una squadra delusa e senza più stimoli. Per la fondamentale gara di sabato, Maragliulo dovrà rinunciare a Bacinovic, squalificato, e Aquilanti, il cui infortunio alla coscia sarà meglio valutato domani, ma la stagione del capitano Frentano potrebbe essersi conclusa. Si cerca di recuperare l'attaccante Marilungo, assente domenica scorsa, ma quel che è stato già recuperato è l'entusiasmo di squadra, società e tifosi. Sarà questa l'arma in più della Virtus contro la Ternana.